Io avevo chiesto cortesemente questi vasi, soprattutto da questa parte che sono sensi. Poi se per favore mi portate questa lista che avevo già richiesto stamattina, grazie Manuela, ti puoi spiegare questi? Cene a lume di candela, incontri serali, lei era l'amante di mio marito. Ma lo sa che lavoro faccio? No. Io gestisco questo ristorante e il suo marito me lo ricordo molto bene. Il cliente più rompiscatole della storia. Voleva pernotare un tavolo a lume di candela per voi due. Anzi, in realtà voleva tutta questa terrazza per voi. Diceva che sarebbe stata una serata speciale e non era mai soddisfatto. Poi alla fine non si è neppure presentato, senza offesa, ma non si sparisce così. Arrivederci signora. e già non si sparisce così. Grazie.